buongiorno al pubblico di solare b2b anche delle testate energie in città e ricarica mancano pochi giorni all'avvio della fiera chi è lo spin off di chi energy e oggi siamo con alessandra stolfi direttore delle fiere globali divisione green and technology di italian exhibition group ma più semplicemente possiamo dire uno degli artefici di questa nuova fiera e responsabile appunto di chi allora siamo ormai a ridosso dell'inizio di chi è tutto pronto si tutto pronto abbiamo abbiamo lavorato tantissimo in questi mesi e perché appunto come come sapete come sanno anche i nostri espositori alla nostra community l'ultima edizione di chi energy si è tenuta a novembre 2022 insieme a eco mondo e quindi il tempo a disposizione per organizzare la fiera naturalmente è stato molto più breve di quello che ovviamente serve per una manifestazione di un certo tipo quindi siamo pronti la risposta è siamo abbiamo tanta carne al fuoco quindi abbiamo tantissime attività ancora in corso però con un risultato insomma possiamo dire che ci rende orgogliosi perché dai 290 brand espositori che avevamo nel 2022 oggi possiamo dire di averne circa eh oltre cinquecento quasi cinquecentosessanta ma con tutta la il conteggio che faremo poi a consuntivo come come giusto fare e di cui un un buon numero sono anche espositori internazionali non solo dalla Cina che è un paese molto rappresentato ma anche dalla Germania dall'Ausa dalla Svizzera dal dagli UK e da vari paesi diciamo del dell'Europa. Quali sono gli aspetti di maggiore di maggiore valore diciamo così della proposta di chi al mercato del fotovoltaico? Ma allora anzitutto quello è il mercato che in questo momento tira di più e ha numeri più significativi di crescita in tutti i come dire i dei rank mondiali per cui sappiamo che è un settore come dicevi tu prima che mancava di un appuntamento di riferimento è il settore che pesa il sessanta per cento rispetto all'insieme della manifestazione e abbiamo tanti grandi player importanti che mancavano come dicevi tu dall'Italia sicuramente anche dagli anni d'oro e quindi sono stati riportati in Italia proprio per l'interesse che il nostro paese sta mostrando rispetto a prima ma anche per la nostra capacità attrattiva di come dire di di creare una piattaforma che che li renda più interessati ad incontrare gli operatori del settore. Mi dicevi prima c'è oltre 500 espositori presenti quanti visitatori vi aspettate? Ma allora guarda noi sicuramente stiamo lavorando tanto per averne circa una ventimila ventimila operatori del settore profilati quindi ovviamente non curiosi ma persone e operatori industria e tutti coloro installatori utility e tutti coloro che operano in questo comparto quindi lavoriamo molto sul profilo degli operatori perché in fiere come le nostre come queste tecnologiche non è importante la quantità ma è importante la qualità quindi la qualità è quella che deve guidare poi qualsiasi scelta e qualsiasi investimento e ne abbiamo fatti tanti davide quest'anno perché riteniamo che ci fosse proprio l'esigenza di raccontare a tutti questa nuova questa nuova chi questa questo spin off di chi è energy quindi sia sul fronte nazionale dei grandi media sia sul fronte dell'inserzionistica diciamo internazionale più specialistica più specializzata e avremo quasi e sono attesi più di 30 giornalisti internazionali. Ecco Alessandra facciamo un po' di storia quando si è affacciata per la prima volta l'idea di questo evento di questo spin off di chi è energy? Ma allora sicuramente abbiamo iniziato a pensarci io nella mia testa nel 2018 e quindi abbiamo iniziato un po' a fare come si fa nelle aziende gli esuot analysis e capire quali potessero essere i vantaggi e i disvantaggi. Quali sono stati gli elementi di maggiore complessità nell'organizzare una, chiamiamola una start-up perché in fondo lo è? Ma allora intanto bisogna sempre avere coraggio quando si fanno queste cose ed è un coraggio reciproco sia degli organizzatori che dei, chiamiamo gli utenti o la nostra community. Quindi un po' la diffidenza di non riuscire in così poco tempo a portare a bordo e ad ingaggiare sia le aziende che i visitatori. Però devo veramente dire che siamo stati supportati tanto sia da voi diciamo in generale media e chi più chi meno ma insomma c'è stato comunque un crederci no? Una fiducia che abbiamo sentito intorno a noi e tutto il mio team perché devo dire devo ringraziarli veramente tanto perché poi c'era un entusiasmo anche intorno alle stessi allo stesso team commerciale che credo che abbia trasferito, saputo trasferire questa fiducia nelle aziende. La cosa che mi ha sorpreso è che noi abbiamo circa 180 aziende nuove quindi c'è stato come dire da un lato il consolidamento di alcune aziende che partecipano da anni ma anche molti player importanti nuovi italiani e internazionali. Insomma tenere anche molto caldo il rapporto con il governo e l'interlocuzione con i policy maker anche questo è un aspetto a cui noi diamo molta rilevanza. State già cominciando a pensare anche all'edizione duemilaventiquattro? Beh sì perché poi fa parte un po' del nostro lavoro quello di come dicevo prima di pianificare e di guardare al futuro. Abbiamo già le date che sarà appunto collocata nel febbraio a cavallo tra febbraio e marzo duemilaventiquattro e abbiamo già stretto diversi accordi con associazioni internazionali sono più di trenta e che poi proseguiranno anche nel ventiquattro perché un anno è breve le nostre ambizioni sono alte e vogliamo assolutamente diventare la fiera più importante del bacino del Mediterraneo. Per fare questo serve tanta pianificazione, tanto lavoro e tanti amici.